eccoci tornati pomeriggio con noi 17.37 come per magia siamo tornati come per magia ci avete visto scomparire adesso siamo a riapparsi così dopo la sigla dal nulla dal nulla abbiamo un po di cose qui sulla scrionia adesso vi raccontiamo calma senza frenesia calma tra poco vi raccontiamo tu hai una grande memoria io ho una grande memoria per fortuna loro hanno una grande memoria loro hanno una grande memoria io 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 penso proprio di sì io voglio dare fiducia ai nostri telespettatori e penso che questa memoria bella ce l'hanno ecco bene allora qualche giorno fa qualche settimana fa abbiamo intervistato il direttore artistico di uno spettacolo io non ho una grande memoria quindi non ricordo il nome dello spettacolo ricordiamo da ricominciamo una cosa del genere ricominciamo ecco è zitto non parlare allora e quindi che è successo che parlavamo con enrico paris io ricordavo enrico francesca ricordava paris abbiamo fatto una miscellanea che è il direttore artistico che salutiamo e lui ha elencato determinati nomi di quello spettacolo tra cui ha indicato facce questa magia aspetta 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 vai 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 scegliene uno prendine uno allora facciamo un trucco sì devo chiudere gli occhi che devo fare no pesca pesco ma ti ho visti ma li devi girare in caso Francesca ma eh vabbè facciamo bene vabbè facciamo sta scenetta che mi piace ormai mi pesco una a caso eh sì io ti devo dire che il numero c'è non lo so sì te lo dico io eh questo c'è il numero il numero 4 bravissima proprio il numero 4 esatto allora questo è facce sta magia se voi su instagram trovate queste cose qui caratterizzate dal colore con la luce non si vede bene ecco col colore giallo sicuramente è perché avete incrociato sul vostro cammino chi Raffaello lo posso dire il tuo nome e il tuo cognome eh sei il capo fai quello che vuoi no 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 Raffaello Corti in arte facce sta magia ciao ciao Raffaello benvenuti ciao ragazzi grazie per l'invito e avevamo detto no stiamo provando a portarlo qui e c'è stato un lavoro di redazione strepitoso lasciatemelo dire da parte dell'amico e collega lo devo dire lo devo dire non se lo merita ma lo devo dire Samuel Maiolatesi Samuel Maiolatesi grande Samuel grazie di averci potuto che ora io guardo in camera come se fosse a casa guardare la televisione in realtà è dietro nel back quindi lo posso vedere con la coda dell'occhio ma anche questa è una magia grazie Samuel di averci l'opportunità e la possibilità di conoscere ma una trattativa durata mesi eh cioè da settembre dell'anno scorso ma è uno stalker praticamente non te ne liberere mai è venuto sotto casa mia a prendere la paglietta gratis ma perché poi basta che dici che è gratis se non ti credo è fatto così ti fa una squadra che non va bene infatti allora indipendentemente da questo torniamo seri io conosco Raffaello ma lo conoscono tantissimi su Instagram quanti follower hai? e oggi ho fatto 48 48 mila follower complimenti ma poi in realtà non so tantissime cioè nel senso però per un ragazzo che comincia vabbè però rispetto ai nostri 700 600 cioè 48 mila insomma è una cifra da capogiro a confronto e Raffaello va in giro fondamentalmente io ti ho conosciuto perché tu vedevo dei video che andavi in giro posso fare una magia facile delle domande a queste persone quindi o doma o verità o magia come era? no la realtà c'è stata un'evoluzione abbastanza ampia perché sono partito dai video su YouTube con delle magie serie e l'ultimo format che dici tu è battuta o magia che in realtà è un format studiato precisamente per TikTok e per Instagram molto veloce molto fruibile dove vado alle persone chiedo battuta o magia a seconda di quello che rispondono faccio una battuta o una magia ok quindi ci chiederai anche a noi battuta o magia? facciamolo come volete voi magia ma allora in realtà fai quello che vuoi ok subito una magia volete? vai 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 come mi pare? allora l'hai portato il mazzo invisibile che ti avevo detto? no no si che l'hai portato ce l'ha in tasca prendilo no Raffaele sta un attimo dai è invisibile prendilo ah è invisibile esatto ce l'ho preso apri il mazzo di carte fai prendere una carta a lei prende una carta ok falla vedere in telecamera ok ecco la carta ora guardala tu la carta che hai in mano è d'apogra ed è quella che vuoi tu che carta hai in mano? quella che vuoi ok ce l'ho no dicela che noi non la vediamo ah devo dirla sento qui un 5 di picche ok se vuoi la puoi cambiare se no la tieni se vuoi se non no eh io la voglio cambiare poi la vuole cambiare così perché dimostra che le carte sono tutte diverse la metti la qua ma butta la tua occhio che sono la perdiamo eh la buttata per terra no la sta qua ma no la prende un'altra fa vedere se sono tutte diverse dai che ho l'ansia su guardala questa che carta è questo è un 8 di cuori ok la vuoi cambiare? no ok allora fa una cosa giralo non è che adesso mi compare la carta in mano no no e rimettilo in mezzo al mazzo ecco qua il mazzo vai adesso nel suo mazzo invisibile mescola le carte sono tutte a faccia in su tranne l'8 di cuori che tu hai scelto casualmente che invece al contrario ti sto mescolando eh 8 di cuori ti stai scrivendo comunque sono tutte a faccia in su tranne l'8 di cuori che al contrario guarda qui ho un mazzo vero dall'inizio del gioco se puoi tirare il mazzo finto dentro al mazzo vero tiracelo proprio ok guarda io apro il mazzo scolo le carte 8 di cuori mi hai detto no? sì in mezzo al mazzo c'è solo una carta girata no non mi dire no no raga aspettate un attimo è l'8 di cuori bene ovviamente siamo d'accordo non è che ma nel senso che l'ho detto prima noi alterniamo giochi a domande ci voglio vedere un altro gioco aspetta non ti interessano le domande no aspetta e qua ce l'abbiamo una volta non è possibile una replica se vuole tornare a trovarci no poi dopo tre giochi sono 10 euro al gioco appunto quello paga lei allora quello che voglio dire è questo devo buttare il mazzo grazie quello è visibile ha iniziato però non è stato semplice cioè nel senso è stata lunga sicuramente perché poi fare una scuola di magia in Italia credo sia difficile allora si conosce poco l'ambiente sì no sicuramente è stato difficile anche trovarla perché io ho iniziato come tutti su youtube con le scatole con i libri poi ho scoperto tramite i negozi di magia che c'era questa scuola di magia però è una scuola parallela non è una cosa riconosciuta quindi facevo la mia cosa c'è il mio liceo e in più facevo scuola di magia pazzesco e quindi portavi avanti le due cose da quando avevi eri minorane e ho iniziato la scuola in quarto liceo però faccio magia dalle medie cioè nel senso io mi ricordo il primo ricordo della magia in seconda media cioè tu in seconda media pazzesco cioè i compagni di classe erano impazzivano ogni giorno vabbè sì era divertente quanto è diventato il tuo core business sì no io faccio solo questo dal 2018 e quindi tanta roba cioè nel senso da farti un applauso perché? perché è difficile poi portare avanti una cosa del genere magari i primi spettacoli ovviamente gratis le prime cose gratis hai detto mi metto in proprio Instagram e TikTok con quei format va molto bene sì 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 è un ottimo periodo il modo migliore per farsi vedere e sono riuscito dopo tanti format a trovare quello giusto che ha battuto in magia perché è veloce è fruibile per tutti quanti però ci ho sbattuto la testa tanti faccio i video su YouTube dal 2014 e comunque sono cresciuto nell'ultimo anno credo veramente e non andava nemmeno di moda fare i video su YouTube esatto molto bene come funziona la comunicazione? com'è cambiata ad esempio dal 2014 al 2018 ad oggi? allora credo cambi in continuazione ogni piattaforma ha il suo linguaggio e bisogna studiarlo molto molto bene e ti devi modellare anche tu per dirti anche credo negli ultimi due o tre mesi si è cambiato ancora e per fortuna cioè io non ho studiato nulla però standoci molto dentro mi piace proprio divertirmi guardare i numeri eccetera per esempio adesso ci sono i reel faccio tanti reel tanti video di quel mondo là cioè non pubblico più post bisogna stargli dietro cioè è un lavoro secondo me è necessario avere i social anche se fai il panettiere in ogni caso è necessario sono totalmente d'accordo con te totalmente io sono ancora un po' sotto shock da quello che ho visto poco fa a me sai cos'è che spaventa un po' quando ho detto massi invisibile io l'ho anche cambiata la carta sì è certo neanche cambiata cioè non è che dici vabbè dai io l'ho pure cambiata la carta però avevi anche la possibilità di tenerla a me quello che spaventa è ritrovarmi un qualcosa ecco in tasca ma vabbè comunque ci arriviamo quanto è difficile portare avanti il tuo lavoro con il continuo aggiornamento cioè quanto studi al giorno anche allora diciamo che adesso ho più attenzione alla creazione delle gag in generale perché poi io faccio magia comica quindi prendo gli attrezzi e poi ci scrivo sopra la parte più difficile è trovare qualcosa che non si sia già visto diciamo cioè perché la magia comunque suona anche un po' vecchia spesso e volentieri quindi la parte difficile è trovare dei giochi che nessuno ha fatto e rifarli in chiave nuova sì e dove trovi l'ispirazione cioè per questi giochi cioè allora in realtà l'ispirazione la trovo dai maghi banali nel senso io devo guardare gli altri maghi e vedere quello che fanno vedere una cosa che non mi piace e cambiarla cambiarla sì e anche trovare una cosa che non ti piace esatto tutti pensano è facile non ti piace non funziona proprio così immagino ecco faccia sta magia va facciamo questo che è nuovo l'ho preso oggi cioè non l'ho preso oggi però non l'ho mai fatto e secondo me ha del valore lo facciamo insieme stavolta il mazzo di carte l'ho portato io sì non è quello invisibile nostro no no stavolta è reale facciamo così e dato che non ti può avvicinar io scorro le carte così no 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 ah vuoi farlo vuoi toccare sì mi diverte voglio capire io scorro le carte quando vuoi mi dici basta ok quando mi dici basta basta ok la prendi la guardi la ricordi la fai dire anche a loro ok ce l'hai? ce l'ho guarda mettila sul tavolo capovolta capovolta sì capovolta qui è una predizione allora cominciamo vediamo come viene allora ho scritto una cosa sai cosa ho scritto? sai cosa ho scritto? e beh penso che tu abbia scritto la carta no no cosa ho scritto? sai cosa ho scritto? no esatto no questo è il primo no ok no no è una caponata è una caponata però ci poteva stare questo no pensa ad un oggetto pensa ad un oggetto quello che vuoi? questo è quello che vuoi? sono ancora ripreso un oggetto sì quello che vuoi ok che cos'è? te lo devo dire un lampadario ok qui ho il codice a barre del lampadario cioè quindi scusami se io adesso vado penso a scansione no dai sto scherzando pensa ad un animale quello che vuoi l'animale quello che vuoi pensalo solo ok che animale è? è un cervo ok qui ho il disegno di un cervo eccolo dai stai spessando che carta hai scelto? te lo devo dire guarda che ora saprei tutto sto cosa io ve lo dico che carta hai scelto? il dieci di fiori il dieci di fiori signori è giusta? è giusta c'è un dieci di fiori ragazzi fallo vedere in camera fra non ci vedo siamo d'accordo anche in questo ovviamente con Francesca ok per fare questo Raffaello quanto impieghi? come fai? oltre a come fai non te lo dirà mai non te lo dirà mai fra non te lo dirà mai è il suo lavoro non te lo dirà mai quanto studi? allora no sicuramente prima studiavo di più perché era forse anche calma sì dammi la carta non mi va avanti più la macricola la trasmissione è un problema Francesca è trucco è della magia è uno show è un spettacolo è fortissimo complimenti grande grazie bravo tu no prima ho una forma quasi autistica verso la tecnica cioè stavo tutto il giorno a provare poi in realtà appunto ho deviato verso le gag la presentazione e queste cose qui fortissimo adesso è andato da ricerca delle cose nuove battuto magia vai facciamolo che vuoi fare? vabbè vuoi farla tu una battuta? tu le sai? ma un po' ma dipende dai fanno una che battute? se vuoi ti posso fare un bugger? bella bella vedi sei impegnata sì sì io ti posso fare la battuta più veloce del mondo vai ridi bella in Cina c'hanno tanto riso bella non so se dobbiamo continuare su questo filo no dai una battuta io una brutta a me piace come disse mio nonno sordo muto siamo in televisione cioè nel senso non vorrei che mi chiudessero il programma cioè nel senso no no ma questa è finita è proprio esatto vabbè allora aspetta che allora tu devi sapere che io veramente adoro queste freddure adoro queste battute quindi cioè è senza parole ragazza me l'hai scioccata ti ringrazio adesso devo proseguire fino alle sette e mezza senza conduttrice è stato lungo pomeriggio sì come dice mio nonno sordo muto esatto bene io non vi sto capendo ragazzi sto iniziando a spaventarmi ci capiamo tra di noi tra freddure e freddure ok quindi abbiamo fatto dicci come funziona battuta magia allora io vado dalle persone gli dico battuta magia loro rispondono ho la battuta la magia e io gliela faccio solitamente alterno cioè nel senso sembra una cosa casuale ma in realtà cioè passo ore sia a girare che a montare cerco di alternare con due battute e due magie ogni video e basta è mai successo che una magia non ti riuscisse? sì a voglia no ma ultimamente le sbaglio apposta cioè perché? è perché mi piace il surreale mi piacciono le cose surreali e i maghi sbagliano le magie però non ho mai visto un mago sbagliare di proposito e non diciamo riparare la cosa quindi ho creato un altro format che è sbagliare i giochi di magia sulle persone praticamente lo sbaglio e il video finisce cioè nel senso si crea quel cringe alla The Office non so se sì sì esatto che comunque secondo me è un'emozione che ti arriva poi credo che l'imbarazzo di social vada parecchio io sono fortunato perché ogni volta che ho parlato di magia ne ho parlato in televisione quindi io ospitavo ok non ne ho mai ho visto dei video i tuoi ad esempio tantissime volte prima di informarmi ovviamente per l'intervista ma anche precedentemente però non mi sono mai messo lì a guardare dei video di magia o qualcosa legato alla magia con uno schermo in mezzo quindi l'ho sempre vissuto di persona c'è una grande differenza secondo te nel farlo ad esempio a teatro o farlo a cinema o in tv? credo che la magia perda molto in video in realtà cioè sia un'arte che vada vista proprio dal vivo come la comicità ma perché la magia sembra sempre che siamo d'accordo cioè in tutti i giochi che abbiamo fatto adesso potremmo essere d'accordo e la gente crederà sempre che siamo d'accordo solo dal vivo alla potenza reale non siamo mai d'accordo non siamo mai stati d'accordo cioè che è la prima volta che lo vedo in video di persona però in video le persone avranno sempre il dubbio quindi la magia va vista dal vivo allora ti dico prendimi anche per pazzo questa carta per come è fatta è diversa allora queste sono delle carte da mago ma nel senso che sono più adatte ai trick hanno dei cuscinetti all'interno che permettono di fare i trick senza che queste si rovinino infatti io generalmente diciamo non sono le modiano esatto non sono carte di cartone sono specifiche per poterle mescolare senza che si rovinino nel breve periodo vogliamo provare a vedere se si strappa non scherzo no 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 magari se la strappa potrebbe uscire qualcosa da un coniglio non lo farei mai potrebbe uscire un coniglio da questa carta chi lo sa vuoi provare? te la regalo tanto comunque se vuoi strappare il tuo no 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 facciamone un'altra mi sorprendi se posso chiedertelo con qualcosa che mi compare da qualche parte perché è una cosa che a me spaventa qualcosa di molto leggero una carta fammi comparire una carta facciamo una cosa vediamo questo allora fra prendi una carta quella che vuoi vuoi mescolarla? facciamo così mescola il mazzo io posso scappare se la cosa mi fa paura posso alzarmi posso venire da voi assolutamente sì non so mischiare le carte ok io sto insieme a avere paura mischiato ok dammi il mazzo guarda prendine una quella che vuoi aspetta no credo che tu non ti possa alzarmi è una questione di microfono vero? perché credo sia appoggiato il microfono in questo momento ah c'è l'ha segnato a posto si può usare ok ok fallo vedere in telecamera mi dici quando hai fatto fallo vedere mi giro dimmi quando hai fatto posso fatto ok guarda dammi la carta guarda prendo il mazzo di carte lo metto in mezzo dammi una mano quella che vuoi mi ci metti l'altra mano sopra adesso io cerco di capire qual è la tua carta alza molla poco poco era il seti pic? no ok no allora immagina che tutto quello che hai visto finora non esista cioè noi non ci siamo gli adesivi non ci sono le carte non ci sono se infatti alzi la mano effettivamente le carte non ci sono ragazzi ragazzi scusate un attimo non ci sono le carte non ci sono tranne una perché se tu le ha no 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 fermi tutti è un mazzo normale scusate ci sono le carte però ci sono le carte eccola che carta hai scelto? esattamente ragazzi no io avevo le ragazzi io avevo le carte in mano io avevo questo mazzo ce l'avevo in mano scusa Matti adesso no c'è la scimmietta che gira posso dire la rotella che cerca di capire questo era anche un po' facile difficilissimo però questo era anche un po' facile ora io chiedo a Raffaello Franci brava brava alza alza fai quello brava brava un sacco di soddisfazioni ora questo qui stessa cosa deve tornare eh no questo butto un mazzo di carta ogni volta che lo faccio questo ma è così cioè questo rimane così scusa posso rivederlo un attimo poi tu l'hai mescolato no l'hai controllato Sì io l'avevo in mano però Raffaello cioè nel senso la magia l'ho fatta io ce l'avevo qui ma lo fanno eh lo fanno sì sì e lo fanno io sono scioccato quanto ci hai rimorchiato questo fatto eh allora sicuramente aiuta sei fidanzato? no ragazzi parliamo a tutta Italia qui ragazzo mi è single mi raccomando fatevi avanti diammi intasati li vogliamo se mi fanno trovare moglie vi do una quota no non c'è bisogno c'è bisogno andiamo a mangiare una pizza mi fai due magie sono contento la tua amicizia mi basta anche perché so che Raffaello seguitelo su Instagram seguitelo perché poi ne vedete delle belle insomma no ecco è un qualcosa è un intrattenimento sano la magia torniamo serie è un intrattenimento sano e credo che sia sempre molto più difficile che ragazzi dell'età nostra comunque molto giovani si avvicinino a questo mondo ed è un peccato non trovi? allora è difficile perché la magia è sempre stato un ambiente di nicchia per questa cosa c'è questo diciamo simolo del fatto che è bello insegnare la magia ma allo stesso tempo non si può no? c'è questa cosa qui però ultimamente cioè si sta espandendo il mondo perché proprio abbiamo capito che se non espandiamo la magia muore e quindi si apprezzano sempre più ragazzi grazie ai social alla magia in realtà per fortuna è questo il bello no cioè io sono sono ancora un po' in trance vuoi venire a scuola di magia? ancora un po' ancora un po' giocata perché ci puoi vedere un'ultima cosa? no perché un'ultima anzi io chiedo altre due o tre cose se noi tra quattro minuti lanciamo la pubblicità altri cinque minuti con noi te li puoi fare? sì certo ok perfetto allora facciamolo dopo la pubblicità così la gente rimane no è fra quattro minuti la pubblicità dobbiamo impegnare quattro minuti a meno che non me li fai sparire questo scherzo è bel cioè meraviglioso sai cosa sarebbe bellissimo? segui il calcio? abbastanza ma non tantissimo far scomparire la palla no 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 andare allo stadio andare allo stadio come idea per un video ad esempio ok inizia a fare magie a caso sulla gente ok sicuramente essendoci allora ho delle cose aperte che riguardano lo stadio tra l'altro che non posso spoilerare no non dire nulla però no sì sicuramente tutti i posti con tante persone per me sono molto comodi esatto solitamente infatti a girare i video vado a Villa Borghese il sabato o la domenica o nei parchi perché mi servono proprio tante persone e ci metti hai sentito che ho detto prima che ci metti un sacco anche ovviamente a montare sì è ancora un po' sotto shock capito quindi sì ti vedo un po' ti vedo un po' cioè sono veramente wow sei bravissimo complimenti veramente e noi ripeto abbiamo la fortuna di poter partecipare perché siamo qui con Raffaele lo stiamo intervistando tante persone però non hanno questa fortuna ma hanno un'altra fortuna quello di poterlo vedere dal vivo quindi no fai anche spettacoli dal vivo allora sto lavorando cioè faccio tanti spettacoli dal vivo però sto lavorando a una mia data proprio da solo a Roma vorrei farla tra dicembre e gennaio e ho già in mente il posto ora non lo dico perché ancora non l'ho preso non dire nulla perché poi in realtà se venite a vedermi fa molto piacere ma certo noi veremo però tu torni e facciamo la promozione poi della serata lo facciamo un sacco di cose quindi ovviamente e questo te le posso ridare cioè te le puoi riprendere quindi non torna come era prima no no rimane così rimane così Francesca non torna che ci posso fare non è colpa mia cioè io sono stato fermo ma io però posso raccontare una cosa raccontare anche i ragazzi che stavano indietro nel quinte io ho sentito qualcosa che succedeva cioè adesso rimangono così le mani non mi tornano normale no rimangono così è normale cioè quindi posso in realtà hai sentito le carne le carte ho sentito qualcosa le carte che ci sono entrate nella carne lo vuoi fare tu? vogliamo rifarlo? si può rifare? no no non si può più rifare non si può più fare si si la prima regola è non spiegarlo la seconda regola è non rifarli è vero quante volte ti chiedono me lo spieghi come fa? no no non ce lo spiegare facci vedere qualcosa ci sono abbastanza stereotipi allora no posso chiedere il mio zen perché lì c'è un altro gioco e no comunque mentre si ho tanti stereotipi facciamo l'entrare Samuel che ce lo porta me lo vengo a prendere io Samuel me lo vengo a prendere io facciamo tutto per lo spettacolo per lo show eccomi eh tutto per l'arte grande grazie oh è sicuro non è che mi succede qualcosa si si lo posso ecco bene mi torno al mio posto bene io sto in piedi perché soffro un po' di nè non so no no io se mi alzo è finita dici no perché Francesca è scioccata possiamo dare un bicchiere d'acqua alla Magri per favore che la vedo un attimino veramente no non mi tirai a una bottiglia se mi fa male Raffaello ci siamo vai allora questo è sempre sulla stessa lunghezza tonda di quello dell'altro ma secondo me è un dettaglio in più che lo rende molto bello si allora fra lo faccio con lei perché è più vicino ma devi farlo allora guarda metto le carte pari qui ok le carte qua i numeri pari esatto qua i numeri dispari siamo sempre mazzi invisibili ok se mi si sente male la Magritte poi tu mi rimani fino alle sette e mezza in conduzione pari dispari quindi pari dispari alza una delle due mani così si quella che vuoi ok le pari si butta via le dispari via via apri le pari anche con meno cattiveria apri le pari prendine una aspetta apro le pari prendine una le prendo una guardala che carta è quella che vuoi è due sempre da poker due di pick ma la vedo il due di pick nove no è pari perché sono quelle pari è pari è il quattro ok di quadri ok perché guarda qui ho un mazzo di carte e ah no ho confuso una cosa perché probabilmente a me piace giocare ad uno e quindi ho confuso i mazzi qua ho messo quello da uno in quello da uno ho messo quelle da poker ma non è che mezzo è nove di mezzo a tutte quelle da uno ce ne sta una sola da poker prendila 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 che carta sarà eh grazie la domanda ricorrente è come fa come fa come fa facciamo così lui mi racconta ce lo racconta e anche noi siamo sconvolti ma come la domanda mi guarda mi fa sono sconvolta si facciamo così adesso quanti siamo siamo una decina di persone bene lo chiudiamo da una parte e lo sevizziamo finché non ci racconta i segreti no scherzo no 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 fin quando non fa tutti i trucchi vuoi lanciare la pubblicità no non sono capace no lanciala tu lanciamo noi sì lanciala tu pubblicità magia grazie mille Grazie a tutti.